Rinfrescante e dal colore incantevole. Il Blue Lagoon Cocktail è perfetto per un aperitivo al tramonto. Preparalo e lascerai tutti a bocca aperta. Ti serve un bel bicchiere di vetro lungo e lo andiamo a riempire col del ghiaccio. Andiamo a versare lo sciroppo di zucchero, succo di limone, e aggiungiamo anche la vodka. E ora il protagonista che dà questo cocktail un colore meraviglioso, il Blue Curacao. Ora non ti resta che mescolare bene. Decoriamo con una fettina di limone. Et voilà. Pare che questo drink sia andato a Parigi nel 1972 all'Harris New York Bar, dove il bartender Andy McClone ha avuto per primo l'idea di creare un cocktail Blue super particolare, che poi ha avuto successo in tutto il mondo. Se vuoi un drink elegante, bello e dal sapore un po' esotico, questo è quello che fa per te. Tu l'hai mai preparato? Fammelo sapere nei commenti. Io intanto questo me lo bevo. Ciao. Mmm, buonissimo. 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 Buonissimo.